L'utilizzo così anomalo dei voucher l'avevamo criticato, l'abbiamo detto sin dall'inizio, però ci eravamo messi a disposizione del governo per fare delle proposte per modificarlo. E mi spiego meglio, i voucher come venivano utilizzati non avevano il giorno, non avevano la data e soprattutto non avevano forse neanche chi era il destinatario del voucher. E ho subito l'orario, l'orario di utilizzo. Cosa succedeva? Che un imprenditore comprava un voucher, lo utilizzava per un'ora e la persona lavorava in nero per otto. Nel momento in cui arrivava al controllo gli faceva vedere il voucher o se fosse successo qualcosa, un incidente sul lavoro, c'era il voucher. La nostra proposta qual era? Era quella di mettere nome e cognome del destinatario, il giorno e soprattutto l'ora. E quindi l'imprenditore era costretto a comprare 5, 6, 7, 8, 10 voucher per le ore. Mi sieni, perché assicchia fare una cosa del genere abbiamo eliminati completamente? Per paura, per paura.